Al GF VIP Federica ha espresso qualche perplessità, durante un confronto con Giacomo Urtis. Dietro fronte della vippona che ammette, non sono presissima, forse troppo in fretta sono stati denominati la nuova coppia all'interno della casa. Dopo il passionale bacio di ieri tra Gian Maria e Federica, in molti sono corsi a frettolose interpretazioni. Se una rondine non fa primavera, un bacio non crea una coppia, né tanto meno l'amore. Almeno per quanto riguarda Federica Calemme, che sta si cedendo alle continue attenzioni dell'imprenditore, ma che si riserva qualche dubbio. Dubbio espresso durante una conversazione con Giacomo Urtis, il quale incuriosito è voluto andare a fondo alla questione. Il chirurgo ha chiesto alla giovane quali fossero le sue intenzioni con Antinolfi, ricevendo una risposta alquanto spiazzante. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confidato la Calemme e quali sono le sue sensazioni. Lo scenario, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti, è sempre in evoluzione. Con tutta probabilità nel giro di poche ore le carte in tavola cambieranno ancora, ma tra Federica e Gian Maria si sono già messi in chiaro diversi punti. È chiaro ad esempio che a premere sia di più Antinolfi, il quale, per sfinimento, aveva conquistato anche Sofì. La stessa influencer lo aveva definito, bisognoso di amore nella sua vita. Ecco, l'imprenditore ha strappato un bacio focoso a Federica nella serata di ieri, ma non un wow. E, stata la stessa Calemme a confessarlo a Giacomo. Con Gian Maria non sono presissima, che dici, wow. Fra noi c'è un'empatia, sto bene, abbiamo molte cose in comune. Innegabile il collegamento tra i due, anche se qualche perplessità rimane per la giovane modella campana.